Non edizione di cantine aperte a Natale, l'evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino che ha chiuso il ricco calendario di manifestazioni annuali dedicate alla promozione della cultura del vino. Da nord a sud della Puglia per l'occasione le cantine hanno aperto le loro porte ad appassionati e visitatori. Vediamo. È l'ultimo evento dell'anno del Movimento Turismo del Vino che ha quattro edizioni di cantine aperte, quella di maggio, poi la Vendemmia, poi San Martino e chiude il Natale praticamente. Per poi essere anche aperte tutto l'anno perché le cantine aperte del Movimento Turismo del Vino sono sempre ospitali, sono sempre disponibili ad ospitare i wine lover che vogliono venire a conoscere questo mondo. Il Movimento Turismo del Vino con cantine aperte a Natale ci ha permesso di creare questa linea che accomunano i produttori in questi tour di degustazione. E soprattutto in questo periodo la cosa molto bella è avere tanta gente qui in cantina che riesce a trovare nel calice i profumi e soprattutto le emozioni del periodo natalizio. È un momento di svago, di divertimento, di occasione per uscire insieme o con gli amici, con la famiglia. Nel nostro caso siamo in famiglia appunto con i bambini. Consiglio anche a chiunque abbia la possibilità di venire a vedere un po' cosa vuol dire produrre il vino. Ogni volta che si beve un bicchiere di vino cosa c'è dietro questo bicchiere di vino. Consiglio anche a chiunque abbia la possibilità di venire il vino. Grazie a tutti.